Oggi vi è stato un altro sparatore in un po' della città. Il segno di sostegno di stile gangster, la polizia ancora non ha nessun sospetto di apprezzio. La vittima è stata trasportata in un'ospedale, per il suo soffermi di senzio. Stavuscio nell'inno spedale, c'è un figlio che non è accettamente vero, si potrà rilasciato. Potrà cooperare con i dettagli sull'investigazione da parte della legge. Sono tranquillosi. Sono tranquillosi di un rischio. Il segno di sorsizionato. Il segno di sorsi del sorsi. Non sulla ci sia un rischio? Sono tranquillosi. Non ho il rischio che ainguarsi. Ne è ? Dopo, non sono sorsi di Lalasci e prendere l'armi. No. Sì, non si fai. Paget Paget di e! Paget! Dur! 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 Paget! Paget! Nere! Ha! Pat celebration Buraki 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 Orada Burak Buraki Buraki No, no, no. Guardate, 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 guardate! Sì